E adesso la sigla del nostro focus, parleremo di cicloturismo. Ha fatto tappa a Cremona quest'oggi il Vento Bici Tour, partito da Venezia e diretto a Torino, un'occasione per promuovere appunto il cicloturismo e la navigabilità sul fiume Po. Il tour è giunto alla quarta edizione, nove tappe, 24 eventi, con partenza da Venezia e arrivo a Torino al Salone del Gusto. Ancora in bicicletta per dire che Vento non è solo la ciclovia che collega Torino a Venezia, ma è un modo di intendere il territorio, mattinata intensa sulle acque del Po, perché ai temi legati al cicloturismo si sono aggiunti quelli sulla navigabilità del fiume. Esperti e amministratori sono stati riuniti sulla motonave Lucio, che ha preso il largo per un viaggio durante il quale si è dato spazio al confronto con una tavola rotonda dal titolo Un nuovo futuro per la navigazione lungo il fiume Po, proposte e idee. Come valorizzare il Po creando un rapporto facile e diretto tra percorsi ciclabili e navigazione. Una formula in auge da tempo all'estero e che in Italia è stata sostenuta da Giro Libero, il più grande tour operator per il cicloturismo. Facciamo circa 20.000 clienti all'anno, 10.000 stranieri che portiamo in Italia e altri tanti italiani che portiamo all'estero. La particolarità forse che può essere interessante in questa giornata, circa il 15% del nostro fatturato lo facciamo con una formula particolare, noi chiamiamo bici e barca. Usiamo la barca come un hotel galleggiante dove poi ci muoviamo in bicicletta alla scoperta del territorio. Questo da molti anni in Olanda, paese d'eccellenza e inventore di questa formula, in Francia e in Germania ma anche in Italia, in Italia tra Mantova e Venezia. E siamo qua a curiosare per vedere se aggiungere Cremona alle nostre mete. E nella speranza che il cicloturismo a Prodi da Mantova e anche a Cremona si fanno accordi con i territori limitrofi come Piacenza e Lodi, sempre alla ricerca di finanziamenti. Questi incontri, questi accordi, il protocollo importante firmato dai sindaci e dal presidente della provincia di Lodi ha messo in moto una progettualità nuova e mi auguro che possa portare nel breve, cosa che ha già fatto con piccoli elementi, piccoli mattoncini, nel breve a una progettualità più importante anche sul livello europeo che possa contribuire a portare al nostro territorio nuovi finanziamenti, nuova linfa. E infatti, Assessore Evan Fredini, è un po' quello che manca sempre, no? Finanziamenti? Sì, finanziamenti che però siamo in grado di intercettare. Poi con questi progetti che dimostrano proprio che il fiume Po unisce e non divide, quindi intercettare nuovi finanziamenti sarà importante sia per la tutela che la valorizzazione. Una buona occasione per valutare l'attuale rete infrastrutturale di supporto logistico lungo il Po in modo da agevolare le varie iniziative turistiche sempre con un occhio alla ciclovia Venezia-Torino che insieme ad altri tre progetti è riuscita ad intercettare per la prima volta un ingente finanziamento statale. La prima volta nella storia della Repubblica Italiana, 90 milioni di euro in parte verranno usati per vento, per realizzare il vento e partiremo, spero assolutamente nei prossimi mesi, a già fare progettazione e poi realizzazione. Sulla motonave luce erano presenti amministratori pubblici, rappresentanti degli enti territoriali del Bacino del Po, operatori della navigazione, operatori turistici, esponenti di associazioni culturali e ambientaliste. E per tutti alla fine parole di viva ammirazione per l'attracco su uno spiagione nei pressi di Spinadesco con la degustazione di prodotti tipici a cura della strada del gusto cremonese. Ma la carovana di vento, ancora prima che da Cremone, è passata da Casal Maggiore, dove si è parlato anche delle possibili ricadute che il progetto vento potrebbe garantire in ambito locale. La carovana vento è passata mercoledì mattina anche da Casal Maggiore, anzi a dirla tutta, il professor Paolo Pileri assieme alla comitiva del Politecnico di Milano ha dormito direttamente in loco a Palazzo Porcelli per proseguire poi verso Cremona, non in motonave, non dalle rive casalesi del Po perlomeno, perché non vi erano le condizioni di sicurezza. In ogni caso il matrimonio tra vento e Casal Maggiore si è consumato per il terzo anno di fila, ancora una volta con il comitato Slow Town protagonista. E se è vero che l'occasione era valida per smuovere comuni e regioni, lanciando un messaggio per sensibilizzare la raccolta fondi, dopo che il governo italiano ha finanziato con 25 milioni l'opera, ecco che la declinazione in ottica locale potrebbe portare a ricadute positive sul territorio casalasco, cicloturismo come molla dell'economia locale, dunque come bottega. Per questo a Pileri e compagnie è stato presentato il metro bottega, inaugurato con la tangenziale dei bambini, alla presenza di Gabriella Carinelli e Gianfranco Feudatari della rete Negozi Amici, che presto riaprirà per arrivare almeno a 140 adesioni, alimentando le 115 attuali. Metro bottega significa promuovere i negozi locali mediante appositi totem e a tal proposito Pileri, approfittando della presenza di alcuni rappresentanti di fabbrica digitale, dopo aver visionato la tangenziale dei bambini, ha invitato alla realizzazione di un'app. Questa da un lato potrebbe mostrare, un po' come è accaduto a Mantua, i luoghi più interessanti su smartphone o tablet, anche passeggiando sull'argine, con una vera e propria mappa interattiva, dall'altro con un sistema simile a WhatsApp ma più strutturato, creare una sorta di lista di iscrizione con orari di partenza e punti di incontro per i genitori che, sfruttando la tangenziale ciclabile, vogliono accompagnare i figli a scuola, in bicicletta o a piedi.